Mr. Roberto Belinghei, alta grande prestazione del Pianico, 4-1 importante nel debit col Pianca 1. Sì, 4-1 che sembrerebbe dire una partita facile, ma non è stata per niente una partita facile. Una partita magari ricca di errori, insomma, un po' da parte loro, da parte nostra, però io sono contento della prestazione della squadra, anche quando siamo rimasti in inferiorità numerica, penso che abbiamo gestito bene il vantaggio, abbiamo dimostrato di essere una squadra importante con determinate caratteristiche, quindi sono contento della prestazione. Adesso le partite sono tutte difficili, sapevamo che era una partita difficile, però l'abbiamo affrontata col piglio giusto, con l'atteggiamento giusto, con la voglia giusta e la vittoria penso che sia più che meritata. Anche quando siete rimasti in inferiorità numerica avete gestito la palla rischiando praticamente mai? Sì, ho ottenuto ugualmente le due punte, anche se eravamo con l'uomo in meno, perché magari davamo un po' troppo campo alla squadra avversaria, invece tenendo sulle due punte, le abbiamo sempre tenute lì, hanno spinto poco anche col reparto arretrato e quindi mi hanno gestito bene, tre centrocampisti, una linea quattro, siamo scivolati bene sugli esterni quando giocavano larghi e penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro sotto quell'aspetto lì. Dopo la partita è fatta di episodi, quindi se loro facevano il 3-2 sul rigore nel momento dell'espulsione magari erano una mezz'ora infuocata sicuramente. Siete ancora imbattuti, 14 vittorie a 4 pareggi, più 9 sulla seconda classifica, i numeri del pianico sono impressionanti. Sì, sì, la classifica dice questo, i numeri dicono questo, però noi guardiamo partita dopo partita, dobbiamo cercare di fare più punti possibili perché ci sono ancora tantissimi punti in palio, le squadre dietro non mollano, noi chiaramente non vogliamo mollare assolutamente, siamo lì, vogliamo vincere tutto quello che riusciamo a vincere e non regaleremo niente assolutamente, fino a quando la classifica dirà determinate cose noi saremo sul pezzo sicuramente. Purtroppo all'andata si era detto che eravamo ancora troppo inesperti per affrontare una squadra di questa caratura, oggi lo siamo stati ancora, emozioni che non si è riuscita a controllare, qualche giovane che ha commesso errore sicuramente ed emozioni sicuramente alla fine tecnici ma dati prima dalla tensione di questa partita che quando giochi con i giovani sai purtroppo c'è anche questo. Dispiace perché eravamo vivi, però oggi loro hanno dimostrato di avere più di 30 punti di noi e l'hanno dimostrato sotto tutti gli aspetti.